L'esercizio fisico è una potentissima medicina. Allora, in questa serie di piccoli video, di piccole pillole, tratterò, a grande richiesta di alcuni amici, il tema dell'esercizio fisico. L'esercizio fisico è uno dei pilastri della salute, del benessere, del successo nella vita, della vita buona, sana e quindi, ripeto, mi concentrerò nel spiegare ciò che conosciamo sui benefici dell'attività fisica. Allora, che l'attività fisica fosse importante per la salute è conosciuto da tantissimi secoli. Ippocrate, il padre della medicina moderna, il fondatore della medicina moderna, tutti i medici quando si laureano votano, fanno il voto socratico. Primo non nuocere. La cosa più importante è non nuocere alla salute dei nostri pazienti. Comunque, insomma, Ippocrate diceva appunto più di duemila anni fa che se noi riuscissimo, se ogni individuo, riuscissimo a prescrivere ad ogni individuo la giusta quantità di nutrimento e di attività fisica, non troppo poco né in eccesso, avremmo trovato la via più sicura per la salute. La giusta quantità di esercizio e di nutrimento. Né troppo né poco. Negli ultimi duemila anni, soprattutto negli ultimi cinquant'anni, abbiamo fatto dei progressi eccezionali grazie alla medicina moderna, alla tecnologia, agli esperimenti scientifici, alle tecniche di medicina molecolare e siamo riusciti a capire perché l'attività fisica induce benefici su tantissimi organi e sistemi. Quando noi facciamo attività fisica attiviamo non solo il muscolo, ma il cuore, il polmone e tanti altri tessuti che producono degli ormoni chiamati miochine o citochine che vanno ad influenzare tantissimi organi, il cervello, il cuore, il fegato, l'intestino, il sistema vascolare, il sistema immunitario e il sistema adiposo come vi spiegherò nei prossimi video. Cercherò di tenerli il più breve possibile tra i 3 e i 5 minuti in maniera da non sovraccaricare chi mi ascolterà. Cosa tratterò? Giusto per farvi capire i temi che tratterò in ognuno di questi piccoli video. Allora, a parte questo introduttivo, parlerò di quanta attività fisica dobbiamo fare ogni giorno, meglio ogni settimana, quali sono i rischi di rimanere troppo seduti, cosa ci dicono gli studi o i benefici di muoverci regolarmente. Tratterò un argomento molto importante perché si pensa che con l'attività fisica non è possibile perdere peso. Vi farò vedere dati molto interessanti di studi che abbiamo condotto noi alla Washington University. Parlerò del ruolo dell'attività fisica nell'aumentare il numero e la funzione dei mitocondri, il ruolo dell'attività fisica nel modulare fattori anti-invecchiamento, nel migliorare l'insensibilità e quindi nel rischio di diabete, gli effetti acuti dell'attività fisica, il meccanismo attraverso cui abbiamo degli effetti acuti che possono essere persi se non facciamo attività fisica regolarmente. spiegherò i motivi, parlerò dei benefici sul cuore, sul cervello dell'attività fisica e sul cancro, sul rischio di cancro. Poi in altri video successivi tratterò brevemente, ma in maniera precisa e concisa, perché, qual è il livello di attività fisica e di allenamento che ci permette di bruciare grasso, se abbiamo necessità di bruciare grasso e invece cosa dobbiamo mangiare prima, durante, dopo l'attività fisica, nelle diverse condizioni cliniche o di training. Parlerò anche dei rischi dell'eccessiva attività fisica, ci sono delle persone che poi diventano ossessionate dell'attività fisica e rischiano di farsi danno. vi spiegherò quello che sappiamo su questo importante argomento, spiegherò anche quali sono i segni che ci indicano, che ci suggeriscono un eccessivo training e come possiamo monitorarlo, come possiamo monitorare se stiamo eccedendo nell'attività fisica e stiamo danneggiando il nostro organismo. infine parlerò dei benefici dell'attività fisica di resistenza, cioè della pesistica e soprattutto negli ultimi video di questa serie parlerò dell'importanza di avere una postura corretta quando facciamo attività fisica, cioè di avere tutte le nostre articolazioni, i nostri arti ben allineati, l'importanza estrema di rafforzare il core, il centro, i muscoli importanti addominali, non solo della schiena, perché altrimenti rischiamo di danneggiare, sovraccaricare alcune parti dell'organismo mentre facciamo attività fisica, e poi l'importanza di bilanciare i muscoli agonisti e antagonisti per avere uno sviluppo bilanciato del nostro organismo muscolo-scheletrico. E poi in altri video, finiti questi primi, queste pillole iniziali, man mano, quando avrò tempo, vi parlerò di altri importanti concetti. Ok, adesso voglio un attimino spiegare a chi non mi conosce qual è la mia expertise, cioè perché mi posso parlare di questi argomenti con una certa confidenza? Beh, innanzitutto perché, a parte essere un medico specialista e un ricercatore, uno scienziato da tantissimi anni, ormai da 25 anni, ho pubblicato 140 lavori scientifici nelle riviste più prestigiose, Nature Science, New England, JAMA, Cell Metabolis, PNS, Diabetes e tante altre, e 35 di queste pubblicazioni sono proprio sul ruolo dell'attività fisica nel modulare questi meccanismi metabolici e molecolari che promuovono salute, che prevengono le patologie. Queste pubblicazioni sono praticamente i risultati, cioè i dati pubblicati su queste pubblicazioni, sul risultato di due studi randomizzati che abbiamo condotto alla Washington University e di tanti altri studi su atleti non professionisti che abbiamo studiato con diverse metodiche. questa conoscenza è cresciuta inoltre nell'interagire nei miei viaggi in giro per il mondo, presentare i miei dati con tantissimi colleghi, perché ogni volta che si va a presentare, si viene invitati a presentare i propri dati a congressi, oppure nell'università giro per il mondo, naturalmente poi ci si incontra, si ha una serie di incontri con i vari colleghi con cui si discute di ricerca e si approfondiscono tematiche, ma l'elemento più importante che mi permette di avere una certa padronanza di questi argomenti è la mia collaborazione, il mio training iniziale, la mia collaborazione con il professor John Holody, il mio caro amico, il mio mentor, collega, con cui ho codiretto il programma di longevità, la Washington University, John è morto nel 2018, ma da John ho assorbito, ho avuto la fortuna, lavorandoci per 17 anni, lavorando insieme a lui per 17 anni alla Washington University, di assorbire l'immensità della conoscenza di questo grande pioniere dell'attività fisica. Per riassumere la grandezza di questo uomo, non c'è altro da dire che, come vedete in questa fotografia, nel 2000 a Sydney, durante i giochi olimpici, è stato insignito con la medaglia d'oro in sport medicine, la medicina dello sport, e un premio di mezzo milione di dollari, come riconoscimento per le sue scoperte, scoperte, per alcune delle sue scoperte fondamentali, nel spiegarci come mai l'attività fisica fa tanto bene. E appunto 17 anni di collaborazione stretta con John mi ha permesso di rubare, di acquisire tutta questa sua conoscenza che aveva accumulato in decine e decine di anni di esperimenti scientifici ad altissimo livello. E per questo ne sono estremamente grato a John, che ricordo con tanto affetto e stima. Allora, in questo video iniziale voglio velocemente spiegare o ricordare, o far riflettere, perché l'attività fisica è importante? Beh, semplicemente perché nel corso dell'evoluzione umana, nei migliaia di anni, attraverso cui l'uomo da Homo sapiens, Arcaic, Neanderthal, Homo sapiens moderno, ha sempre dovuto fare tantissima attività fisica, cioè l'uomo si è evoluto in un contesto che richiedeva tantissima attività fisica vigorosa e quindi i nostri geni, la nostra biochimica, la nostra fisiologia è stata formata, è stata modellata da questo ambiente molto fisico. Queste sono le condizioni in cui l'uomo si è evoluto tantissima attività fisica, forza, endurance, ore e ore di lavori per coltivare la terra, per raccogliere, per andare a prendere l'acqua, perché non esistevano l'acqua corrente in casa, non bisognava prendere l'acqua al poto. Qualsiasi attività richiedeva forza fisica per trasportare oggetti, legna, qualsiasi cosa e invece negli ultimi 50 anni con la meccanizzazione di tante attività siamo arrivati all'estremo della vita in alcune società moderne per cui l'attività fisica è diventata un'opzione. La maggior parte delle persone fa pochissima attività fisica e ha una vita altamente sedentaria. la cosa preoccupante è che i nostri bambini sempre di più passano tantissime ore di fronte alla TV e ultimamente di fronte a questi playstations, videogames, tablets. Questo naturalmente va contro, assolutamente va contro, all'evoluzione, ai geni ed è per questo che la sedentarietà è una delle cause principali di molte delle ematologie più frequenti e debilitanti della nostra società moderna. E con questo per oggi vi saluto e nei prossimi video tratterò, come ho detto, uno alla volta. in brevissime pillole, tra i tre e cinque minuti cercherò di contenermi gli argomenti che vi ho preannunciato. Vi ringrazio come sempre. A presto.